Procedura semplificata per domande invalidità civile per i minori L'Inps, con messaggio numero 4212 del 22-11-2022, informa di aver semplificato la domanda di invalidità civile, sordità, cecità e disabilità, legge 104-92, per i minori Per la presentazione online della domanda, il genitore può utilizzare le credenziali del minore CIE, carta d'identità elettronica, oppure CNS, carta nazionale servizi In alternativa, il genitore e o tutore può utilizzare lo SPID Nella prima parte della procedura per la presentazione della domanda online, il sistema richiede i dati del certificato elettronico rilasciato dal medico ed i dati amministrativi per la liquidazione della provvidenza economica, se spettante, senza necessità di ulteriore domanda, come accade ora tramite modulo AP70 Dopo aver compilato tutti i campi ed aver inserito le informazioni richieste, la domanda deve essere trasmessa selezionando Invio domanda Il genitore dichiarante, che presenta la domanda, ha l'obbligo di inserire anche i dati dell'altro genitore In caso venga richiesto il pagamento in contanti della provvidenza eventualmente riconosciuta indennità di comunicazione e o di frequenza, occorre il consenso esplicito di entrambi i genitori Per tutti gli approfondimenti è disponibile il manuale Domande d'invalidità civile, accessibili all'interno della procedura di presentazione delle domande con apposito manuale L'Inps specifica infine che, per le associazioni di categoria e gli enti di patronato, l'accesso alla procedura semplificata è in corso di predisposizione e verrà comunicata con successivo messaggio Grazie a tutti